ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi abbiamo un t-rex di left world super colossal il lungo metro è alto 40 centimetri ragazzi adesso lo montiamo abbiamo messo la gamba adesso montiamo la coda ragazzi vi presento tiri se vi è piaciuto questo video lasciate un like e mettete la campanella ciao